Vi assicuro ragazzi, Sonia è la donna perfetta, assolutamente viziosa e insaziabile come lo sono io! Davvero? Non avevi detto che ero un'esperta di computer? E lo è! Nella bocca ha spazio sufficiente per un gig di bite! Hai già deciso di dire addio al tuo stato di single? Quando lo capisci, lo capisci! Ok, ma fa attenzione, non affrettare una decisione importante. Prendo il menù cheeseburger. Vuole il menù cheeseburger extra large? Ehm... No, sì, no. Sicuro? Sono solo 30 centesimi in più? Sì! No!